Il tamponamento è avvenuto intorno alle 11 lungo l'autostrada 4 tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano di Zocco, in direzione di Milano, all'altezza della stazione di servizio di Limenella. Qui si sono scontrati quattro veicoli, tre auto, un furgone carambolato nel fossato adiacente, ferite in modo leggero sette persone, ma risentirne in modo pesante è stato il traffico, dato un numero di veicoli in circolazione nell'orario dell'incidente, con code chilometriche. Sul posto i vigili del fuoco di Padova, ambulanze del SUEM e anche l'elisoccorso, a condurre i rilievi gli agenti della polizia stradale. Tutto è tornato alla normalità intorno alle 13.